guardate questo parcheggio allucinante significa che può parcheggiare con due ruote sopra il marciapiede e due ruote sopra la strada guardate la prima zebra che vediamo con le specchie guardate la mia macchina un arro un barro siamo arrivati al parco i cani tedeschi supercar Caffè! Caffè! Ero molto male! Si aguanto corrono! Hey! What's the big idea? Ohhhh! Grigità supersonica! Italia 2 Chi sei a casa? Tozzi Pippino! Entrate nel Falco Giocchi di Vestimento Della villa di Battle Burger Vediamo! Vediamo che c'è! C'è un cosa conto che c'è? Boh! Chi stai andando? Speriamo! E' un'altra cosa che c'è! E' un po' di più! 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 Tieni quattro frecce a domate, chissà. Uccello. 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 Tieni quattro frecce a domani. Uccello. Senti rossa. Tutu. 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 Signore e signori, a Barodoburger ho fatto una scoperta straordinaria. Signore e signori, a Barodoburger ci sono pure, pure, guardate, ci sono pure le... Castagne. Questo è l'albero di castagne. Sì, ma caro, non dite il vento. Oh, cacca. Ricordiala, cacca, oh. Sto andando bene alla musica. Come paradiso. Ma che ho dalle aree che c'è sta? Qui d'inverno, questo lago, tutto questo lago in mezzo, si ghiaccia e quindi i ragazzi questi passi erano con i passi erano dal ghiaccio. Come fosse diventato più di una pista artificiale. Una pista naturale e mezza, gigantesca. Guardate, una piccola tedesca che fa footing. di vento. Allora che ci sono da qui, no? Abbato 130 km. Con un leguito. che ci prepara tutto coso? ma che è vero che ci facciamo un pezzotto che ci fa tutto coso? e lo fa solo un cameraman dove andiamo in Sicilia? qua al lato prossimo fanno una grande festa stanno preparando dalle appagoda in questo momento lo è stato un riovele in questo modo sia è una nuova in questo modo ma non organizzare i nostri pazienti quindi sia un riovelle sono molte così, siate eво un riovello Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Ciao Silvana, un saluto Silvana Silvana un saluto 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 Quercione Normus Coniglio Gigante Questa rappresenta la cosa dei bimbeni e questa rappresenta la verività maschile Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Comunicare Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info carburatore la mano la catena la catena